Vabbè, vediamo. Gianpaolo, Minucci, sbaglia, Valkyria, spin, parte piano, vis di Girifalco, mentre parte forte, come sempre, Vulcano, Null, di dentro, prova a contenerlo, Vile, Libe, Vulcano insiste e passa a condurre, ma poi confonde il passo, lo riprende Dario Battistini, ma poi riconfonde ancora, insomma, un po' in difficoltà d'andatura. Alla fine sbaglia e si estromette, così Vile e Libe in vantaggio, spendendo il minimo, lo segue Very Strongware all'esterno Via Colvento, poi Vittoria, CAF, davanti a Volo, ok. Via Colvento avvicina Vile e Libe, i 400 in 31,7 sul mio cronometro, ovviamente i 100 iniziali sono fuori, e ora si va verso l'imbocco della seconda curva, Vile e Libe, Via Colvento, allargo in corda, Very Strong, davanti a Vittoria, CAF, poi Volo, ok, vis di Girifalco. 600 in 47,5, adesso si va al paletto degli 800 iniziali, non cambia assolutamente niente, con Vile, Libe, Battistrada, 1,4 scarso per i primi 800 metri, da parte del figlio di Pascia all'est, che ha all'esterno Via Colvento, in corda Very Strong, poi Vittoria, CAF, ancora... Volo, ok, al cui interno si insinua Vis di Girifalco, Volo sposta, ma per rilevare la scia di Vittoria, CAF, che a sua volta va a prendere la schiena di Via Colvento, e così guadagna lungo la corda Vis di Girifalco. 20 il primo chilometro, 16,8 la frazione per iniziare il secondo, sbaglia Vittoria, CAF. In questo punto si lancia in terza, Volo, ok, inizia ad allungare Vile, Libe, 600 per venire a casa, 15,2 l'ultimo paletto, Vile, Libe in vantaggio, Volo, ok, che si avvicina, in corda Very Strong, in bocca della curva finale, Vile, Libe al comando, Volo, ok, imperioso, si avvicina all'esterno, Vile, Libe che si difende, Volo, ok, allargo di dentro, Very Strong, poi Vis di Girifalco, perfettibile di camminata, ingresso della retta di arrivo con Vile, Libe al comando che allunga, Vile, Libe in chiaro vantaggio, poi Volo, ok, ancora Very Strong, Vis di Girifalco, e poi via col vento, Vile, Libe che prosegue al comando, Vile, Libe va a vincere facile, nelle mani di Roberto Vecchione, per così ottenere la terza vittoria su cinque uscite, il figlio di Pascià all'est, allenato da Holger Eilert per i colori della scuderia NIS, quota 1,87, tempo al chilometro, io ho 2,36, sarebbe 18, ma con i 100 iniziali svelti, potrebbe essere un 17,6, 17,5, 17,6, 1,87 la quota al totalizzatore, eccolo qua, Vile, Libe al primo Roberto Vecchione, scorrono le immagini, il secondo per Volo, ok, con Giampaolo Mennucci, e poi ancora il terzo. per Vis di Girifalco e Davide Di Stefano.